Allora io sono stato un allievo di Saloia. Mi sono iscritto all'Accademia al 1956, alla facoltà di pittura, che ero con Gentilini e come incisore Ramacari. Ecco, in ogni caso l'entrata di Saloia nel panorama dell'Accademia è stata una, non solamente una bella notizia, ma una bella presenza che portava con sé il cambiamento, non solamente così. Prima di tutto era un bravissimo professore. Ecco, molto bravo, con una grande comunicabilità. E' venuto poi effettivamente faceva inizialmente, c'erano delle cose parallele alla scenografia. Ma poi lì si faceva della pittura, senza dimenticare naturalmente, che a 1958 c'era una bellissima mostra nella Galleria d'Arte Moderna diretta da Bucarelli di Pollock, che è stato un taglio alla fondana, perché si vedeva l'esperienza di Fautrier e di quella scuola parigina essere oscurata un po'. Era quasi una pittura da cavaletto, di fronte a quell'altra pittura americana, in cui Saloia parlava, perché era dato in America, è stato molto impressionato da quella generazione di artisti, perché non aveva visto Rauschenberg e Geoff Johnson, quella prima generazione di artisti che apparteneva appunto a Pollock. era, ecco, e per questo motivo c'era un clima speciale, speciale, fra quell'uomo lì, sottile e grande insegnante, a parlare di una pittura nova e rivoluzionaria. Ecco, questo bisogna dirlo, cioè che quello che insegnava quell'uomo sottile e melancolico era rivoluzionario. Poi, io devo dire la verità che gli devo molto, perché nella mia prima mostra alla tartaruga mi aveva presentato lui. Ecco, ero studente e parlato lui a Plinio per farmi fare la mostra. E dunque, ecco, questo devo dire, ecco, lo devo dire, che li devo molto. Ecco, Saloga naturalmente non è solamente l'insegnante. Ecco, ha tentato, no, forse è anche con molta freschezza, di arrivare a questa sua visione, perché al dunque, anche quanto dice di collasso, non è una cosa europea, non si tratta del cubismo, si tratta della libertà, è mossa nella libertà nello spazio. Non ha una prospettiva nei quadri di Saloga, no? c'è lo spazio, è come un territorio che si svolge questa azione, che dura pochissimo, manca la tonalità, no? Penso molte volte quando sento Saloga vicino alla cosa di Morandi, mi insospettissimo, perché Morandi è un tonale, Morandi è un uomo del cavaletto, è melancolico anche quello, ma non ha l'aggressività di De Chirico. Dunque, penso, mentre Saloga aveva intuito benissimo la cosa. Forse, non lo so, se ha fatto bene di tornare in Italia, e senza che tornassi in Italia, noi che eravamo giovanissimi allora, non potevamo approfittare di imparare non solo la pittura, ma alla sottigliezza, ecco, di comunicare la pittura. Io poi ho diventato io, professore, non in Italia, ma in Germania, a Dusseldorf. E molte volte, ecco, dico, non ho mai dimenticato le lezioni di Saloga, che hanno avuto anche il loro effetto con questi allievi allievi di altrove, non qua, ma però sempre allievi che sottilissimi, come eravamo noi, io, Pascali, più tardi, che era nella scenografia, e poi gli altri. Però, ecco, quella cosa lì di aver, mi aveva portato alla tartaruga per fare una mostra, io che avevo vent'anni, ecco, mi, devo dire, ecco, che mi ha, mi ha inciso nella vita. Grazie.